Com'è la guerra fredda? Eravamo, come forse ho anticipato prima, pronti in 5 minuti, che vuol dire che i due piloti dei due aeroplani mangiano, dormono, stanno in una palazzina vicina agli shelter, ai ricoveri dove sono posizionati gli aeroplani. Gli aeroplani sono già pronti ad andare in volo, sono armati con il casco di equipaggiamento già preposizionato e in qualsiasi momento del giorno e della notte di queste 24 ore, che è la durata di questo turno d'allarme, la sirena d'allarme può squillare in qualsiasi momento. E in quel momento il pilota aveva 5 minuti di tempo per decollare. L'esperienza addestramento faceva sì che normalmente in 3 minuti e mezzo, 4 minuti, si riusciva a decollare. Oggi è un po' più difficile perché le macchine sono più complesse e quindi per predisporre tutta l'avionica è un po' più complicato rispetto a 104. All'epoca si faceva abbastanza in fretta e si dormiva anche diciamo in pigiama, quindi si aveva il tempo di mettersi la tuta da volo, gli scarponi, correre all'aeroplano, accompagnato gli specialisti, mettere in moto. Insomma era un balletto abbastanza complesso, la messa in moto veniva fatta col supporto dello specialista mentre ci si legava, appena pronti si usciva dallo shelter, dal ricovero, la torre dava le indicazioni iniziali di rotta, di quota, senza neanche fermarsi per fare le prove motori perché si erano fatte all'inizio della mattina, i due aeroplani in sequenza si allineavano in pista, post bruciatore e decollo. Normalmente il decollo era fatto non solo col post bruciatore ma anche la salita era fatta col post bruciatore, la quota ottimale dell'aeroplano era fra i 37 e 39 mila piedi per andare appunto più velocemente possibile verso l'obiettivo da identificare o da scortare o da allontanare. E quella domenica, ricordo, ero gregario, ero giovane tenente, partimmo una prima volta la mattina, tutti contenti e soddisfatti, apro una parentesi, quando nel turno d'allarme i due piloti e i due velivoli pronti in 5 decollano, automaticamente viene scalata la prontezza dei due velivoli pronti in 30. Quindi i due piloti che erano pronti in 30, che erano magari a casa, non c'erano cellulari all'epoca, non c'era granché, e quindi dovevano rimanere vicini a un telefono e far sapere dove erano, venivano immediatamente richiamati, avevano 25 minuti di tempo per assumere la prontezza pronti in 5, in modo tale che ci fosse sempre la prontezza, perché i due aeroplani erano in volo. Quindi nel momento in cui noi siamo decollati, i due piloti pronti in 30 sono venuti in aeroporto. Fatta la nostra intercettazione, adesso non ricordo, era un aeroplano civile, forse della ex Jugoslavia, che è stato identificato, è stato seguito per una parte della sua rotta e poi siamo ritornati ed atterrati. I due piloti pronti in 30 sono rimasti a chiacchiera con noi fino a che i nostri aeroplani non erano nuovamente predisposti, riforniti e messi a posto per decollare normalmente. Dopodiché ci salutiamo e questi due amici ritornano a casa. Primo pomeriggio suona nuovamente l'allarme e ridecolliamo, contenti e soddisfatti, per una seconda intercettazione. E i due poverini che erano pronti in 30, che se non ricordo male erano alla spiaggia con le mogli, vengono richiamati al volo e anche la domenica pomeriggio tornano in aeroporto, mentre noi intercettiamo questo secondo aeroplano. Fra l'altro ebbi un problema al velivolo, ebbi un problema al motore del velivolo, non un'emergenza gravissima, ma insomma riuscì a ritornare ad atterrare e dovete sostituire il mio aeroplano, quindi predisporre un altro aeroplano. Insomma, felici di questa domenica, che si era svolta con due voli, quindi molti soddisfatti, abbiamo cenato, un balazzino allarme, lo ricordo sempre, e dopo cena guardavamo la televisione, perché c'era guerra stellare, era appena uscita la televisione guerra stellare. Quindi tutti gasati a vedere queste intercettazioni fra macchine spaziali, fra intercettatori spaziali, suona per la terza volta l'allarme, alle 10-10 e mezza di sera. Per cui facciamo questo terzo scramble, su partenza allarme, una serata bellissima, serena con le stelle, intercettiamo questo terzo aeroplano, lo identifichiamo, identifichiamo la rotta, e poi torniamo a terra, ormai era insomma alle 11 e mezza, quasi, quasi mezzanotte. Tre era il numero massimo di voli che un pilota potesse fare al giorno, per cui noi felici e entusiasti, non solo, ma riuscimmo ad andare a dormire a casa, perché fatti tre voli, il nostro turno d'allarme era terminato, invece i due poveracci che erano pronti in trenta, non solo hanno avuto rovinata tutta la domenica, perché anziché potersi divertire, erano venuti due volte in aeroporto, furono pure fregati, dovetero passare il resto della notte, senza ovviamente decollare, perché avevamo già fatto tre voli noi, è andata bene così, e passarono la notte in aeroporto. Ovviamente lo sfottò e poi è andata avanti per diversi mesi, ma lo ricordo sicuramente come una giornata particolarmente interessante. Ecco, una piccola emergenza che andò bene, sono stato fortunato nella mia carriera onomatica, non ho mai dovuto usare il paracadute e sono sempre riatterrato con l'aeroplano, ma sicuramente qualche difficoltà tecnica e qualche spavento l'ho avuto anch'io sull'aeroplano. Molti parlano del 104 come di un fabbricante di vedore, come una barra volante, io lo ritengo invece una macchina assolutamente sicura, sono convinto che mi ha salvato la vita più di una volta, perché era costruita veramente bene. Certo è che non perdonava l'errore, quindi è chiaro che un aeroplano da combattimento, come una macchina di Formula 1, è un paragone che faccio spesso, va portata al limite delle prestazioni. Il pilota di Formula 1 gareggia per vincere la sua competizione e per vincere deve usare la macchina al limite delle sue prestazioni. Se fa il circuito di Formula 1 a 50 all'ora, sicuramente non uscirà mai di strada, sicuramente non succederà nulla, ma è altrettanto certo che non vince nessuna gara. L'aeroplano da combattimento, da che esista, da che fosse il biplano della Prima Guerra Mondiale, fino alle macchine più sofisticate, deve imporsi su un ipotetico avversario e quindi deve essere utilizzato al meglio delle sue prestazioni, deve essere portato al limite delle sue prestazioni. La tecnologia del 104, che era una macchina veneristica, faceva sì che l'inviluppo di volo era eccezionale, ma l'aeroplano non perdonava errore, cioè era un aeroplano sicurissimo all'interno del suo inviluppo, ma se si faceva un minimo errore e se si usciva dall'inviluppo, beh, questo errore non lo perdonava. Quindi tanti incidenti sono dovuti purtroppo al fatto che, lavorando sempre così vicino al margine, l'errore era sempre in agguato. E l'esperienza aiutava molto a non superare i limiti della macchina. Da un punto di vista tecnico, era ovviamente un missile con ali piccolissime e con un motore solo, ma estremamente capace. Motore che penso un paio di volte mi abbia salvato la vita perché funzionava anche con parti mancanti o con difficoltà. Ricordo, per esempio, una missione in Sardegna, una missione all'ACMI, quindi una missione nella quale il motore viene utilizzato al massimo della potenza, in maniera anche brutale e continuativa, e in quel caso, a un certo punto, mi accorsi dagli strumenti che stavo perdendo l'olio del motore. Insomma, un motore senza olio non è che giri particolarmente bene. Finì l'olio prima di riuscire a tornare indietro. Ora, il manuale dava la possibilità all'aeroplano, al motore, messo a un certo set di giri, quindi messo con una potenza fissa, senza più muoverlo, per 4-5 minuti, prima di grippare per mancanza di olio. E io ero ancora in mezzo al mare. E quindi, ovviamente, diretto verso l'aeroporto del decimo manno, mi preparai a un lancio, mi preparai a dover abbandonare l'aeroplano nel momento in cui il motore si fosse spento, perché aveva perso completamente il controllo del mezzo, non c'erano altri aeroporti. E quindi, letto il checklist, viste le procedure, mi predisposi anche per l'eventuale lancio. E finalmente dal mare arrivai sulla costa. E a quel punto, diciamo, la prospettiva era un pochino diversa. Sì, eventualmente lancio, ma vediamo dove indirizzare l'aeroplano perché eviti di fare dei danni sulle case. Quindi, attenzione alla rotta, attenzione a evitare i paesi. E poi in lontananza cominciai a vedere la pista ed erano passati dieci, dodici minuti. E mi ricordo che, ecco, guardando, pensando, non è che avessi granché da fare, che non potevo toccare il motore, dovevo sentenere soltanto la velocità ottimale di discesa e cercare di avvicinarmi alla pista. E il mio pensiero era, ma perché mi devo proprio lanciare, ma devo lanciare oggi? Vedo già la pista, sono passati però dodici, tredici minuti, ma perché mi devo lanciare? Sarebbe così bello riuscire ad arrivare in pista. Evidentemente il motore mi ha sentito, mi ha ascoltato, e mi ha portato fino in pista. Quindi sono riuscito a toccare sulla pista, come ho tolto manetta o ridotto motore, il motore si è grippato. Ma eravamo a terra, e l'aeroplano era salvo. Ero salvo anch'io, ho tirato un sospiro di sollievo. Ma sono un motore che gira senza olio per circa un quarto d'ora non può che essere un motore straordinario. Altre volte atterrati, sì, con qualche magari indicazione, con qualche vibrazione, e poi in sede di ispezione ci siamo resi conto che mancava tutta una serie di palette del compressore. E il motore resisteva a queste sollecitazioni. Quindi un motore, ecco, non nuovissimo, ma sicuramente straordinario, come era straordinario l'aeroplano. E quindi c'è un affetto particolare, penso, da parte di tutti i piloti di questo velivolo.